È un piacere trovarsi in questa occasione presso EQF dove si stanno svolgendo i campionati italiani e questo evento in particolare è dedicato ai proprietari, proprietari sponsor, proprietari genitori, proprietari allevatori e lo scopo è quello di unire il più possibile questa collaborazione tra cavalieri e proprietari. Credo che i proprietari devono essere valorizzati per il ruolo che svolgono che è fondamentale per la nostra equitazione. Le nostre promesse hanno bisogno di cavalli di grandi prestazioni e senza i proprietari questo non potrebbe accadere e quindi questa è l'occasione per festeggiare e questa è una delle novità difise, cercare di festeggiare e valorizzare tutti questi appassionati. In questa occasione Vittorio Orlandi, il nostro presidente, ha voluto incaricarmi del ruolo dei rapporti tra proprietari e cavalieri. Quindi avremo una collaborazione con Apice e con Cavallo in Famiglia e spero, ma sono certo, che riusciremo a costruire qualcosa di interessante.